ecco roberto ha ascoltato la mia preghiera e mi ha passato questo ritratto di studio così che io possa massacrarlo un po mi piacerebbe leggere l'immagine in due modi diversi stavolta il primo dei quali è molto diretto mentre il secondo è un po più complesso ho preparato un livello al c30 che sto rendendo visibile e potete facilmente notare l'effetto ormai ben noto che però ci dà un bel po di problemi stavolta come spesso accade coi ritratti dobbiamo essere cauti a enfatizzare il contrasto locale perché è facilissimo trasformare un essere umano in un rettile alce è più gentile di altre tecniche ma l'effetto qui è decisamente esagerato se guardate l'immagine più da vicino vi renderete conto del perché questo è alce questo è l'originale questo è alce sì pelle da serpente vi prego anche di notare l'alone chiaro attorno alla testa naturalmente conosciamo già diversi modi di ridurre un po l'effetto e il più facile sarebbe ridurre l'opacità del livello ma io credo che questa sia una tecnica un po da principianti e che possiamo trovare delle vie migliori opzione numero uno usare il metodo di fusione scurisci per questo livello questo rimuove immediatamente l'alone chiaro che è più chiaro dell'originale e limita l'effetto agli alloni scuri esattamente ciò che abbiamo visto nell'immagine del manichino poco fa opzione numero due lasciare il livello in modalità normale e usare una maschera di livello il blu è sempre il canale più scuro nei volti e potremmo applicare il blu sia dallo sfondo che dal livello alce stesso io non mi aspetto di vedere enormi cambiamenti fra le due opzioni quindi proviamo menu immagine applica immagine canale blu dallo sfondo e dal livello alce di nuovo dallo sfondo dal livello alce io penso che il livello alce ci dia un risultato marginalmente migliore e con il pulsante preview possiamo vedere la versione non mascherata il risultato ok opzione numero 3 è la più interessante mio modo di vedere mentre il blu è il canale più scuro nei volti il rosso è il canale più chiaro quindi possiamo pensare di applicare il rosso invertito di nuovo abbiamo una scelta tra lo sfondo e il livello alce e tuttavia penso che il livello alce sia migliore proviamo menu immagine e applica immagine di nuovo modalità normale e proviamo con il rosso dallo sfondo ma invertito stavolta ora il rosso invertito dal livello alce l'alone è meno evidente in questo caso mentre il resto dell'immagine rimane sostanzialmente invariato riuscite a indovinare perché di nuovo sfondo livello alce ok posso ottenere questa versione l'ultima cosa che mi resta da fare è sfocare un po la maschera perché in casi come questo a volte riesco a recuperare un po di dettaglio ammorbidendo la transizione tra i due livelli perché questo è ciò che sto facendo con la maschera sto miscelando il livello alce con lo sfondo una sfocatura di una ventina di pixel può funzionare quindi filtro sfocatura controllo sfocatura 20 pixel e sì funziona meglio andiamo a zoomare al 100 per cento e alterniamo tra la versione sfocata e non sfocata con command z notate che la versione con la maschera sfocata è più nitida molto bene a questo punto ho finito beh ho quasi finito ho finito se penso che questo sia un ritratto ma se invece fosse uno scatto di moda potrebbe esserlo in fondo in quel caso ho bisogno di enfatizzare il maglione più del viso che dovrebbe restare più o meno come l'originale in quel caso potrei anche lasciare che alce vada fino in fondo e creare una maschera di livello in modo da poter escludere il suo effetto sul viso facendo apparire l'originale ma la verità è che non mi piace affatto dipingere e preferisco che sia photoshop a farlo per me quindi mi serve una maschera per il livello alce che sia bianca dove c'è il maglione e scura nel volto potrei probabilmente arrivarci curvando il canale rosso ma magari sarebbe noioso allora vi mostro un'altra tecnica che si basa sulla semplice osservazione dell'immagine la prima cosa che noto in questa fotografia è che abbiamo soltanto un elemento che abbia colore ed è il volto mentre il resto è sostanzialmente neutro una notizia fantastica anche perché abbiamo un colore solo e non tanti il colore del volto potremmo tranquillamente farlo ricadere nell'area del rosso al lavoro fatemi innanzitutto cancellare la maschera di livello che ho creato e togliere visibilità al livello alce perché devo lavorare sull'originale quindi selezioniamo il livello di sfondo e apriamo un nuovo livello di regolazione di correzione colore selettiva quello che vogliamo fare è selezionare rossi e accertarci che il pulsante assoluto in basso sia selezionato spingiamo in su il colore del nero fino al massimo mentre accendo e spengo il livello notate quanto più scuro sia diventato il volto quando la correzione applicata mentre il resto rimane completamente invariato adesso cambiamo la modalità di fusione in differenza tutte le aree immutate sostanzialmente quelle grigie saranno nere le altre ovvero il volto avranno un qualche tipo di variazione ok adesso applica visibili vi ricordo tenete premuto il tasto alt e selezionate unisci visibili dal menu livelli per creare un livello che contenga una copia di questa immagine spettrale siamo a caccia di una maschera per cui non ci serve alcun colore quindi menu immagine regolazioni desatura per trasformarla in un'immagine in scala di grigi adesso diamo un po di vita a questa maschera selezionando tono automatico dal menu immagine ed eccoci qui abbiamo una maschera fantastica beh quasi è l'opposto di quello che ci serve vogliamo il volto nero e il maglione bianco quindi la dobbiamo invertire di nuovo menu immagine regolazioni inverti a questo punto possiamo liberarci del livello di regolazione non ci serve più tutto quello che dobbiamo fare è applicare questo risultato come maschera di livello a livello alce quindi rendiamolo nuovamente visibile e applichiamo l'immagine appena creata come maschera di livello in modalità normale clicchiamo ok e cancelliamo il livello che contiene la maschera suggerisco di curvarla un po per aumentare il contrasto e ecco fatto l'enfatizzazione è dove la vogliamo nel maglione e negli occhi mentre la pelle viene recuperata dall'originale ora vado a disattivare questa maschera cliccando mentre tengo premuto il tasto shift solo per farvi vedere quanto una correzione eccessiva possa togliere incisività al soggetto che in questo momento vi ricordo è il maglione e non il volto questo è senza maschera qui abbiamo la maschera di nuovo senza per me il volto è decisamente troppo enfatizzato qui mentre con la maschera attenzione va al maglione confrontiamo con l'originale direi che l'effetto sul maglione è decisamente marcato quindi correzione di un'immagine di moda a costo zero solo dando un'occhiata che spero sia intelligente all'originale e naturalmente alce comunque ci sono i ragazzi ovviamente non ci sono una luce che spero sia intelligente all'inizio di moda a costo ironico come un'occhiata che spero sia intelligente all'inizio